Straordinaria artista, una voce apprezzata in tutto il panorama nazionale e finalmente abbiamo la possibilità di ascoltarti con tutta la calma possibile e immaginabile perché è stato presentato ufficialmente il tuo nuovo lavoro discografico, All of Me. Sì, si intitola All of Me e chiaramente un omaggio a Marks & Simon e tutti i grandi autori del jazz, alle divine del jazz, che abbiamo provato a leggere, a interpretare, a reinterpretare con gli arrangiamenti di Bruno Persico, davvero un quartetto strepitoso. È un album di cover, però c'è anche un brano originale, Snow, scritta da me e Bruno Persico e gli altri musicisti sono, lo posso dire, Luca Signorini, che ha utilizzato il violoncello proprio per dare un tocco classico, un respiro più ampio, più morbido a questi standard strepitosi, Enrico Del Gaudio, noto batterista decano del jazz. Possiamo quindi confermare che Napoli risulta sempre essere un po' anche capitale del jazz per quanto riguarda la musica e tu sei la testimonianza che il jazz femminile esiste attraverso delle voci straordinarie? Sì, il jazz è molto vitale, io sono 30 anni almeno che canto, tanto lo diciamo non sono più una giovanissima e forse si migliora anche un po' negli anni, perché acquisti più tecnica, più morbidezza per i suoni, ti rilassi un po', che anche la cosa bella del jazz è questa sfida. Tanta tecnica, però mettere sempre tanto cuore. Quello che non mi piace molte volte nei giovani è che usano solamente tecnica, è importante, bisogna conoscere il vocalist, lo sketch, però devi anche trasmettere un'emozione, questa è la cosa fondamentale e credo che appunto questa nuova generazione anche di jazziste sia molto forte, molto bella. Mare Sagalli, bucca al lupo per la tua straordinaria carriera e soprattutto per il disco. Grazie, ma ora non si può dire più crepi, diciamo solo bene.